E' così forte Messi? Fortissimo, è più forte, più forte. E' una roba, una roba... Al di là della qualità e la sua testa, la mentalità. Io in quattro anni che è stato con lui, aveva fatto tante partitelle, non ha perso una partita, non ha perso una. E se la perdeva, se la perdeva il caso, andava nell'allenamento. Ha forse la mentalità. Sono quelli che sono quattro, quattro, cinque in tutta la storia, che hanno qualcosa di diverso. Al di là della qualità individuale che tutti vedevano, è la sua mentalità. E' bella quella, il sette, l'otto, il nove, il dieci, l'undici più forte. Quella che hai detto a te. E' bella quella. Il sette, l'otto, l'otto. Puoi giocare apertutto, è fortissimo, è fortissimo.